ciao a tutti sono lo zombie che sta per uccidere marco 88 e fa la pilota madonna ehi dai suon ma io sono il manziatest e benvenuti in questo nuovissimo chi è che mi ha colpito? ucciso ma mi ha colpito da dietro era girato e mi ha colpito è uno zombie zozzone perché ti ha colpito da dietro ma infatti campfire mi piace la sega ne abbiamo già due ho trovato un'altra sega ma c'è testa abbiamo fatto bene a fermarci qua guarda che bella noi nello scorso episodio abbiamo finito la benzina tra l'altro quindi no l'arco si no non ho più spazio perché non ho mai spazio io perché sono pieno di mazze da golf vuoi prenderti l'arco dammi qualcosa sto morando di sanguato te lo ho detto sai questo mi può servire mazze sto trovando cose utili per noi no marco sto morendo non credo che non mi servirà più niente perché sto definitivamente morendo perché muori ah no ok ce l'ho fatta ho usato una benda e sono sopravvissuto ma ho tipo 10 per cento di salute perché mi ha fatto sanguinamento il tizio la lo schifoso l'arco lezzo dopo a una ragazzi ma c'è testa si vieni vicino a me ti sono uscite da dietro bastano bastano ma questi ragazzi sono quei ragazzi vediamo se mi danno di più no mi danno 23 comuni cioè ci mi danno 5 comunque a me danno nel 2 per cento invece sai in più marco si perché ho aumentato guarda 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 cosa c'è qua vieni ci sei passato davanti non hai visto cosa il pavimento ma fatti furbo non ho spazio prendila tu cosa qua non vedo niente ma vuoi dire che abbiamo dei drop diversi scusa davvero non vedi niente no c'è una motosega ma vuol dire che abbiamo dei drop diversi scusa si prendila tu la motosega e io prendo quello che l'ha preso 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 ma non c'è un case ah i chiodi li ho buttati io hai preso la motosega si ho buttato i chiodi perché non mi servivano a niente cioè in realtà mi servono per fare le frecce io devo trovare dell'acqua perché sto per morire eh? dell'acqua è più che altro abbiamo bisogno della borraccia ma se devi morire potevi andare a casa a morire scusa un attimo sei medicata no non lo sapete ti ho trovato una bottiglia da perfetto bravo qua ci sono delle uova se hai bisogno le ho prese io aspetta che sto morendo di nuovo sono tornato al 77% no perché sbaglio sempre tasto da cliccare butto per terra kill overkill lo sforzo fa già il massimo mancano tre attacchette lol non ho droppato un case qua c'è la macchina ma sai cosa potremmo fare questa volta di episodio? cioè cosa? andremmo a esplorare la prigione e dov'è quella davanti alla città? quella nell'isoletta si davanti alla città allora torniamo a casa così poggiamo un po' di roba tipo la motosega che ci servirà tantissimo tipo questa macchina eh? tipo questa macchina si ma intanto ci arriveremo con la benzina giusta giusta probabilmente no eh dobbiamo trovare delle tanniche di benzina in realtà ho trovato delle quantità industrielle di scotch e mazze da golf e chiodi ma del resto niente i chiodi mi saranno utili se voglio decidere poi di usare l'arco solo che il casino dell'arco è che le frecce non sono staccabili e quindi occupano un fracco di spazio le frecce ma non tanto e me ne occupano uno ciascuna non è come tipo le munizioni è quella che entra ma io li vedo in vestiti prima che ci arriviamo sai? io no perché tu stai ostando quindi probabilmente ti occupa tanta banda io invece li vedo giusti visto? ci siamo arrivati con il 15% di benzina ma avevi preso un'altra un'altra macchina non quella che avevamo a casa ti ho detto che c'era quella col 25% allora io adesso voglio vedere se con farming al massimo o farming al massimo no? si agriculture al massimo voglio vedere ma guardate quanto mi da ad arvestare questo comunque abbiamo un sacco di metallo sai? allora provo a vedere mi hai detto solo del corn scusate allora allora io faccio craft eccolo ci sono allora posso craftare due borracce si con cosa? cosa serve? intanto ho trovato il crafting della cam della? se ne creo due della lattina ah no ne da due si oh alleluia finalmente le farm funzionano marco cercherò di fare delle farm funzionanti scusa ho due lattine adesso demi ah i due lattine allora potresti no ho due lattine ok ma le borracce riesci a farle? non lo so allora serviranno le lattine e dopo e dov'è craft? eh? eh non lo so ti ho detto forse con le lattine sì si era con le lattine le lattine però non so ho anche tessuto magari cosa? magari anche col tessuto non lo so ma non lo trovi la la recipe? rieccoci qui ciurma abbiamo fatto un po' di cose off camera durante la notte anche perché era la notte degli zombie dagli occhi assassini eh finita benzina le cose rispawnano velocemente no ho lasciato mi son tenuto la moto a sega porca miseria si rispawnano velocemente però ci conviene muoversi se dobbiamo andare oh dio ci sono due si rispawnano velocemente c'era uno ancora qua che strisce? stavo craftando un po' di cose questo 3.000 polpiti sono voluto ma andiamo in questa prigione o cosa facciamo? andiamo eh allora andiamo ma dove vai? è di qua, è in mezzo al mare però è uno zombie che ti insegue adesso vediamo se gli scappi oppure no sì sì secondo me si ferma tra un attimo poi tanto non nuotano dai andiamo anche perché sto morendo di sete abbiamo scoperto come craftare una borraccia solo che abbiamo bisogno della bottiglia d'acqua che non abbiamo ci sei? voglio vedere se la prigione ha un logo sicuro oppure no non credo no dubito altamente sarà una zona militare con i tizi strapotenti perché hanno i giubbottini poi anche se fosse sarebbe scomoda perché non ci sono alberi no ci sono i ranger qua dopo i canadesi come si chiamano si ranger si chiamano canadangers eh? canadangers canadangers un canadesi è un ranger canadangers dividiamoci però se no non... l'arco ha una freccia di base l'arco ha una freccia di base no il cibo no il cibo non serve a molto perché tanto abbiamo... oh questo serve la farm una porta di quelle barrose bravo vai a vedere tu lassù io vado oltre che tra l'altro chissà da quanto verrà il video perché noi abbiamo tagliato maitama questo è lasciato di una delle munizioni gauge shells ma non so perché fucile siano poi entraremo dentro la prigione sali là sopra quella baradà che non sono andato quale? quello che ho passato appena adesso e che adesso sono già scelto quello successivo binocoli ma continuano a droppare binocoli qua qua c'è un detenuto che mi ha droppato i pantaloni ma non voglio i pantaloni del detenuto qua ci salgo io così vedrò se trovo qualcosa per non morire di sete perché sto morendo di sete uh c'è un fucile è un fucilazzo vediamo se ha dei colpi sì uno solo lol li ho solo attirati occhio qui li ho risvegliati praticamente tutti perché ho sparato un colpo tra l'altro mancando anche il tipo adesso lo droppo il fucile tanto non serve più un kaiser io sai cosa faccio coi fucili? ti prendo e ti smonto cioè prendo lo scrap metal qua ci sono un sacco di vestiti da carcerato c'è anche un barbecue allora vediamo qua vestiti da carcerato niente tu guarda fuori intanto io sto esplorando dentro qua è chiuso qua vestiti da carcerato qua vestiti da carcerato qua vestiti da carcerato credo che si potrebbero farmare giusto solo per la stoffa si scraftano questi? tutto si scrafta no alcuni vestiti no eh sì si scraftano allora io raccolgo tutti questi vestiti del piano terra e ne scrafto il più possibile io vado nel piano su eh? vado di sopra io vai sopra bravo anche se dubito che troveremo qualcosa oltre a questi vestiti vestiti coltello buono ho trovato qualcosa di interessante? no solo vestiti? scraftano scraftano udici ma vietiti secondo te si possono riparare i vestiti? probabilmente si con della stoffa io sto morendo di sete sai? beh non è che sei lì quindi guarda ti morirò in faccia aspetta aspetta lascia che ti muoia in faccia così raccogli quello che ti serve di più no non morire qua ah vado sotto così arrivo prima ah ho n'idea aspetta si ma io non posso raccogliere tutto sei sicuro di non riuscire ad arrivare a casa? si sono appena morto eh ma adesso arrivo a nuoto da casa intanto non è lontano vuoi che aspetti qua? no non importa non credo che ha dei spawni così in fretta la roba ci va solo un attimo di più da casa perchè è un po' lontano l'isolet ma neanche poi troppo sto arrivando marchino ciao il casino è che non puoi più sprintare in acqua è vero che è un po' rognoso ma credo che ci serva l'abilità swimming o una roba del genere ah tra l'altro mi avrà tolto un sacco di skill adesso di agricoltura eh si oh si sono rialzati gli zombie cosa si sono alzati? gli zombie comparti troppo vicino è presente come ho visto uno zombie alzarsi da terra che era per terra si oh ci sono degli zombie qua di nuovo devi aiutarmi perchè sono senza niente dove sei? sono sotto una delle torri non quella dove sono morto quella dopo comunque esci fuori alle torri esci fai giro e ma devo per forza passare di la dove andare a raccogliere la mia roba salita forse sopravvivo no me ne è rispaunato un altro in faccia porca miseria no ma io non ero passato di qua allora forse no si ero ben andato di qua si è di qua che ero passati ho preso un achievement ma non ho capito qual è vediamo un attimo eeeh ah guadagna mille di esperienze dove è finita la mia roba? dov'è? ah ok deve essere la vedo un mucchietto di roba io ho preso del asparo ma non capisco perché non mi prende più i... ah perché sono 0% vabbè siiii mi ha dato il suo cappello ah io ne ho droppati due dove sei? stavo cercando te stavo entrando nella prigione io sono dove c'è il barbecue non è inutile non c'è niente tu prova a guardare guardato che io non noto niente di nuovo cos'è che non hai? io stavo cercando qualcosa di utile ma non c'è eh io ho trovato solo vestiti sto facendo tipo trilliardi di bende c'è che dovremmo scurodiamo? sì lo voglio comunque ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti scuilla anche il telefono saluti ciao ciao